Nello stesso periodo, perché il 63 poi è un anno in cui è sconfussato il film Pol Merti, oltre a questi due, nello stesso periodo in cui loro girano il Gattopardo a Palermo, c'è il Siciliano che ha aperto solo, per girare il mafioso, un film di Alberto Latuada, che ricorderete, in cui Alberto Soli fa il Siciliano, tra l'altro, e gli accadono delle cose strane. Se vedete, la truppa del mafioso alloggia a Villa Igea, dove alloggia la truppa del Gattopardo, non Visconti, che aveva un suo castello, dove aveva fatto arrivare l'arredamento da Roma per stare in due mesi, faceva delle scene così, ma la maggior parte degli attori della truppa alloggiava Villa Igea, e alloggiava Villa Igea anche a Lendero. Arriva la truppa del mafioso e c'è, non soltanto Soli, ma questa attrice brasiliana che aveva avuto appena un po' di successo, con un film accanto dove aveva nato una scena di lungo che era diventata famosa. Insomma, è solito... Si chiama Norma Bengeri. Eh, è bengero, è bengero, non mi vedi il cognome. Norma Bengeri... Che non sembra una brasiliana, poi, una biondina, nel film infatti fa una milanese. Esatto, invece è una brasiliana, con cui Soli intreccia immediatamente una relazione. Arrivano a Villa Igea e Norma Bengeri pede a Lendero. E a quel punto, a Lendero... E poi che avresti la legge? A quel punto comincia a dichiarare al mare, ma una sera Norma Bengeri dice a Lendero di andare in camera sua. E vanno in camera, Soli si riaccorge e, a un certo punto, va a bussare questa roba. E succede una scena, la commedia all'italiana, come sta per nascere, no? La bella commedia all'italiana di quel tipo. Fa una scena di un fin di Soli, cioè comincia a bussare a Lendero di tutti i vestiti sotto al letto e poi scappa sul terrazzo addirittura. Quindi Soli poi sfonda la porta e non c'è nessuno, però trova degli stivali che ho da uomo sul letto, ma non c'è più a Lendero. Però poi a un certo punto capisce che questa storia della Norma e Lendero è impossibile da far finire e quindi comincia in questo periodo dei due film, nel mafioso di Gattopardo, a convivere tutti e tre, nel senso che Norma Bengeri sta un po' con Lendero e un po' con Alberto Sordi. E poi c'è una scena che nel libro racconta, che secondo me è molto bella, che a un certo punto il mafioso finisce, loro se ne devono andare e si vedono uscire dall'albergo, Norma Bengeri, Lendero e Alberto Sordi. perché Alberto Arendero sta accompagnando Norma alla macchina e Arendero le avaligie di Norma Bengeri in testa, perché i geni l'ha stato trasportato un valigione enorme e Sordi dice a me va la valigia in testa come ci vede nessuno. Quindi alla fine in qualche modo Sordi dice. Curiosità, perché ho detto, dove hai trovato questa storia? Questa, credo, su qualche rivista di gossip. No, perché l'ha raccontata, secondo me, Alberto Agnide, in una Repubblica Palermo di anni fa, e poi c'era anche un libro, quindi ho messo insieme. Ma ci sono foto di Cronaca dell'epoca? No, no, però Norma Bengeri c'è e non si evite l'altro. Tra l'altro Norma Bengeri poi partì e andò a Venezia, andò a Venezia a girare e dopo lei rimase a Venezia e tentò il suicidio, e si dice che tentò il suicidio per Nostalgia di Anne de Romp, che intanto Rob Schneider aveva capito tutto, ma Rob Schneider era a Parigi a girare, io parlerei dei ventricolenti per oggi, e Rob Schneider disse, ok, devo andare, e infatti arrivò lì, Lucchino Biscotti disse, Rob i piedi, e mi stanno... Aiuto, proprio. Dite di loro se ci stanno tutto, ma Norma Bengeri evidentemente, e insomma, soffrì. Ora, la vera vittima di questa storia è questa attrice. Non Alberto Sordi. No, Alberto Sordi, si fa imbalzata addosso, ma poi la riniscita di confrontare a Vellano, vale tutto. Secondo me il fatto che non ci avessi la legge in testa è vero. Assolutamente.